il talent show amici 2024 è stato teatro di un acceso scontro tra due figure di spicco del mondo della danza alessandra celentano e debora lettieri la tensione esplosa dopo una serie di esami di danza indetti dalle due coreografe che hanno portato a una vera e propria battaglia colpi di classifiche e punteggi tutto è iniziato quando la celentano ha deciso di sottoporre le sue allieve a una verifica assegnando loro stili di danza diversi e creando una classifica basata sulle performance questa iniziativa non è stata ben accolta da debora lettieri che ha risposto con un esame parallelo affermando che i voti della celentano erano evidentemente falsi la lettieri ha giustificato la sua azione dicendo che era importante per le ragazze comprendere come i voti possano variare in base all'insegnante e allo stile questa situazione ha generato un clima di tensione tra le allieve che si sono trovate a difendere le proprie insegnanti in un clima di competizione accesa emanuel low un altro coreografo del programma ha cercato di riportare la calma sottolineando che tali conflitti sono inutili e sottraggono tempo prezioso agli allenamenti tuttavia la guerra tra le due coreografe non si è limitata alla scuola ma ha trovato spazio anche sui social media dove entrambe hanno espresso le proprie opinioni in modo diretto e provocatorio le anticipazioni per la prossima puntata di amici 2024 promettono ulteriori colpi di scena con un confronto che si preannuncia infuocato tra alessandra celentano e debora lettieri gli appassionati del programma sono in attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e quale impatto